Ad Atessa, la locale sezione dell'Associazione Italiana Amici del Presepio, ha organizzato la quarta edizione di Atessa nel Presepe, la segna presepistica che si snoda, come al solito, nelle chiese e nei principali edifici del centro storico. Di questo e altro ne parliamo con il presidente dell'Associazione, Vincenzo Cicchitti. Sì, appunto, quest'anno siamo alla quarta edizione e come tema abbiamo dato appunto il tema Atessa nel Presepe. Questo tema perché? Perché siamo riusciti a proporre delle miniature, degli scorci di strade di Atessa, di chiese, delle vecchie fontane scomparse, in special modo il convento di San Pasquale, molto caratteristico e immerso nel verde di Vallaspra. Queste creazioni in miniature potete ammirarle presso la ex chiesa di San Gaetano. Inoltre, proponiamo nella quarta edizione il presepe nella cattedrale di San Leucio, il presepe nella chiesa della Madonna della Cintura, il presepe all'aperto in piazza Garibaldi. Inoltre, la manifestazione è arricchita da tanti e tantissimi presepi esposti dalle scuole e dai privati, nonché dai nostri stessi soci. Ultima iniziativa di questa quarta edizione è stata quella del presepe nelle vetrine. Iniziativa molto riuscita e apprezzata dai commercianti del centro storico, cui hanno aderito in massa. La quarta edizione di Atessa del presepe è stata nobilitata anche dalla presenza di un illustre ospite, il Monsignore Forte, Arcivescovo di Chieti. Sì, abbiamo avuto l'onore di avere il giorno dell'inaugurazione, il Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo dell'Arcidiocesi Chieti Vasto. Appunto, è stato un onore per noi e ci ha resi molto felici. Ricordiamo infine gli orari per coloro che fossero interessati a vedere questa interessante manifestazione. Sì, la mostra resterà aperta fino all'8 gennaio e rispetterà gli orari di apertura nei giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30 e nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.00. Invito tutti a visitarlo, faccio tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i visitatori.